I carabinieri delle compagnie di Sciacca e Sandonato Milanese hanno arrestato 7 persone accusate a vario titolo di rapina in abitazione, aggravata dall'uso delle armi, detenzione abusiva e ricettazione di arma comune da sparo. I fermati sono Zivan Todorovic, 36 anni, Mija Sivkovic, 31, Sinisa Orsos, 27, Snezana Sivkovic, 27, Marina Dimitrievic, 39 e Ramona Rakic, di 29. La rapina risale al 13 ottobre scorso nella villa di un noto imprenditore agrigentino. Armati di pistola e bastone in quattro fece riruzione nell'abitazione della vittima, malmenandola e sparando più colpi di pistola a scopo intimidatorio. Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle case circondariali di Milano, San Vittore, Lodi e Termini Merese a disposizione delle procure della Repubblica di Sciacca e Lodi.